Salve a tutti gli utenti di Spazio Games, io sono sempre il Dr. Whites, oggi siamo qui con un nuovo episodio del nostro piccolo Road to FIFA 14 oggi andremo ad analizzare e a vedere alcuni giocatori molto interessanti del campionato di Bundesliga campionato che presenta giocatori molto forti, molto sottovalutati a FIFA 13 ma che a FIFA 14 secondo me saranno determinanti molta gente utilizzerà queste squadre in FIFA 14 Ultimate Team iniziamo subito ai portieri, la scelta sarà sempre tra Adler e Neuer, Neuer è sicuramente un portiere migliore di Adler però a mio parere costerà all'inizio soprattutto parecchio quindi vi consiglio di puntare Adler Adler che comunque è un ottimo portiere, già a FIFA 13 si difendeva benissimo e aveva delle ottime versioni in form passando alla difesa troviamo Socrates Papastatopoulos, 77 di velocità che serve sempre a velocità in un difensore centrale nuovo acquisto del Borussia Dortmund a sostituire Santana, è un difensore ottimo, a mio parere sarà la vera sorpresa di quest'anno ottimi valori, costerà pochissimo all'inizio, prendetelo se volete fare una squadra di Bundes appena inizia il gioco Toprak era silver, l'abbiamo visto nelle squadre divertenti turche, è un giocatore davvero forte, già nella sua versione silver si difendeva benissimo questo oro promette molto bene anche perché è oro non raro quindi costerà davvero poco, all'inizio del gioco sarà determinante avere questi giocatori poco costosi ma molto forti chiudiamo con Santana, non ha bisogno assolutamente di presentazione, si è trasferita allo Schalke 04 ma le sue statistiche sono sempre impressionanti 1,94, forte di testa, molto veloce, sarà di sicuro uno dei difensori più forti del gioco passando ai terzini destri troviamo Piszczek del Borussia Dortmund, ottimo difensore, io lo preferisco a Lam, 85 di velocità, ottimi valori sia in difesa che in attacco, walk rates alto alto quindi si propone sia nella fase offensiva che in quella difensiva l'altro terzino destro che non ha assoluto bisogno di presentazioni è Filip Lam del Bayern Monaco, un giocatore pazzesco nella realtà a mio parere leggermente basso le statistiche perché nella realtà è molto più forte, anche molto più veloce sarà un difensore abbastanza costoso soprattutto all'inizio, potrebbe essere una valida alternativa a Piszczek più avanti a mio parere però Piszczek sarà leggermente meglio terzini sinistri, abbiamo pochi giocatori, l'unico è Alaba, migliorato rispetto a FIFA 13 adesso probabilmente è uno dei migliori terzini sinistri del gioco e anche nella realtà è uno dei migliori terzini sinistri del mondo walk rates abbastanza portato per l'attacco quindi occhio nella fase difensiva passiamo ai centrocampisti, troviamo Mario Goetz, si è trasferito al Bayern Monaco, è stato migliorato di un punto valori pazzeschi, soprattutto il dribbling 90 per un giocatore così, valore veramente molto alto 4 stelle più debole, 4 stelle skill, da provare assolutamente la sorpresa a mio parere però sarà Mkhitaryan del Borussia Dortmund arrivato dallo Shakhtar Donetsk, valori davvero davvero interessanti, soprattutto in fase offensiva ha un walk rates perfetto per un COC alto-medio, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, sarà assolutamente da provare uno dei giocatori invece che ha subito un più netto miglioramento rispetto a FIFA 13 è Ike Gundogan pazzesco, probabilmente sarà il miglior centrocampista di Bundesliga guardate, le statistiche sono perfette, sia per farlo giocare come COC, sia per farlo giocare come COC un giocatore davvero completo passando agli esterni troviamo Marco Reus, un giocatore anche lui non ha bisogno di presentazione uno dei più utilizzati a FIFA 13, è stato sport stato definitivamente come esterno sinistro ottimi valori, sarà l'alternativa low cost a questi giocatori che vedremo ora ossia Frank Ribéry, uno dei migliori giocatori del gioco 5 stelle skill come a FIFA 13, 90 di valutazione, ottima velocità, ottimo dribbling leggermente più scarso il tiro ma comunque sarà un giocatore estremamente costoso come lo è stato d'altronde a FIFA 13 Ultimate Team passando sulla fascia destra troviamo Shakiri che è un giocatore a mio parere sottovalutato perché ha delle ottime statistiche, work rates perfetto, alto, medio statistiche davvero interessanti soprattutto la velocità e il dribbling 4 stelle piede debole, 4 stelle skill, secondo me sarà da provare mentre risparmiamo i soldi per quest'uomo, Arian Robben, 92 di velocità, 85 di tiro, 92 di dribbling come sempre 2 stelle piede debole quindi tirate pressoché solo di sinistro 4 stelle skill, un giocatore assolutamente fantastico, sarà da provare passando agli attaccanti troviamo Aubameyang, 95 di velocità questo è il giocatore tra i più veloci nell'intero FIFA 14 Ultimate Team sarà sicuramente da provare, è un giocatore a mio parere molto sottovalutato nella realtà adesso probabilmente usciranno molte versioni in foa perché ha solo 80 quindi potrà avere molte versioni di giocatori potenziali chiudiamo con Lewandowski, attaccante al Borussia Dortmund finalmente hanno corretto il work rates, alto, medio secondo me sarà uno degli attaccanti più forti del gioco non fidatevi dalle statistiche, sarà sicuramente da provare mi ricorda un po' Balotelli in FIFA 13 chiudiamo con la mia squadra ideale, un 4-3-3 Adler in porta la difesa molto veloce e molto compatta centrocampo con Luis Gustavo Fardamiliano davanti alla difesa con Goetz e Mkhitaryan liberi di andare in fase offensiva attacco molto veloce con Royce e Shakiri ad aiutare Lewandowski che ha solo il compito di finalizzare l'azione bene ragazzi con oggi abbiamo concluso se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscriviti al canale noi ci rivedremo presto con un altro video di FIFA 14 Ultimate Team ciao a tutti